Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi registreremo Blow Stars, non mi ricordo che episodio, non mi ricordo niente io, ma vabbè, sono dettagli questi. Abbiamo questa con Colette, ancora da sconvincere amici. Si, sconvincere amici ragazzi, cominciamo benissimo questo episodio. Siamo morti anche noi, però vabbè dai, abbiamo fatto una bella chilo. Cominciamo così, guarda, non la finiamo più. Guarda quante casse abbandonate al loro destino e che ci sono qui, ce le prendiamo tutte e ovviamente andiamo a vincere questa partita dai. Quello si sta facendo uccidere così. Che partita di merda. Come ci siamo salvati, non lo so nemmeno io. Lo prendo quello, porco. Non bestemmiamo. Quinta partita, vediamo se adesso vinceremo o meno, perché io adesso mi sono sforciato onestamente e voglio vincere. Vallo a uccidere quello, ma perché? Ma cosa fa? Abbiamo i nostri compagni, guarda, non ci aiutano per niente. Non lo so. Sì, adesso fatti uccidere tu proprio. Mi ha ucciso con un colpo, proprio così, cioè, perché guarda, se ci facciamo uccidere questo qua che nemmeno spara, cioè, guarda per quanto non l'abbiamo preso, guarda. Oh mio Dio, 12 è arrivato. No, peccato. Abbiamo ancora otto battaglie da vincere con Colette, ma per il momento con Colette ci arriviamo qui. Sì, certo, proprio il compagno giusto abbiamo trovato, giustissimo. Vaffanculo però, eh. Io non voglio dire né parolacce, né voglio bestemmiare, né voglio fare niente, però guarda, con questi è impossibile qui. Guarda cosa sta succedendo. Sì, certo, proprio con me dovevi puntare, pezzo di merda. Mi ha fatto solo perdere il finale della partita, vaffanculo purettela. E vuole giocare ancora, tra l'altro, io sono costretto a farlo perché c'ho la missione. Cominciare senza power up. Non è proprio il massimo, ecco. Siamo proprio dei coglioni, guarda. Siamo dei coglioni. Non ho, non trovo altre parole per descrivere questa cosa. Io purtroppo devo fare il gioco ancora. Se questo vuole giocare ancora, io sono costretto a farlo.